Ashtag oggi mi sono svegliata così Ma in che anno siamo? Lugno Selfie Ashtag adoro gli animali Levate palla di pelo Vicino Micia facciamo una foto insieme Dai guarda qua Micia Micia No 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 Vieni qua No no Ciao ragazzi seguitemi nel mio tutorial Su come bere le chiappe alla Kyle Jenner Adoro rimanere in forma Ok ho scaricato una serie di tutorial da Instagram su come rassodare i glutei Sono pronta Ok La schiena Non sono più giovane come una volta Gira McDonald's Hashtag Edy Sano In shape In forma Non capisco come facciano queste modelle ad avere questi fisici Sicuramente Photoshop Sto bevendo il mio drink a mio party esclusivo nella mia villa da 5000 metri quadri con solo celebrità invitate Wow Sono appena uscita dall'estetista e adesso sto per andare alla spa Non c'è niente di meglio degli altri Il mio smoothie super sano e vegano al gusto di cactus e pesca Caffè 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 Ti amo Meglio abbondare non si sa mai Faccio tanto schifo se ci aggiungo un po' di Nutella Ragazzi facciamoci un selfie Ma è venuto benissimo Ma a me non si vede neanche Appunto Hashtag friends Ci facciamo una foto insieme da amiche che non abbiamo neanche una decente Uh volentieri eccomi No in questa faccio schifo Uh in questa sono bellissima Eh no in questa faccio schifo io Ok dai rifacciamo Allora come è venuta? Ne abbiamo una nuova foto da tenere per ricordo che Instagram non vedrà mai Grazie chiocciola Versace per avermi regalato questa maglia da tutti i giorni E grazie hashtag desigual per Gucci per avermi regalato questa borsa da tutti i giorni Se volete acquistarla andate qua sotto col codice sconto eleonora super bella per avere uno sconto del 50% Poracci Non credo che qualcuno si accorgerà che rindosserò la stessa maglia per la quarta volta Uh a meno che non vengano ad annusarmi le ascelle Ok cos'è che va di moda adesso? L'unicorni Un po' di trucco Perché veramente pensi che io dia la buonanotte da struccata? Hashtag buonanotte Allora Pijamina imbarazzante c'è Mascherina imbarazzante c'è Crema antiocchiaie che intanto domani mattina avrò c'è E ora è di andare a letto Wow è venuta bene al primo colpo Questa no 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 Perché è così difficile? Basta ci riusci Ciao team Olivieri Io sono Eleonora e questa era Instagram vs vita reale Spero che il video vi sia piaciuto E se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace E attivate la campanellina delle notifiche per sapere quando pubblico un video E' uscita in libreria la nuova edizione del mio libro Il mio anno pazzesco La versione fucsia E quindi ne troverete tantissime copie in libreria Olivieri o rivolci o di sempre Ciao 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 Ciao